Buonasera e grazie di essere intervenuti in questa nostra piccola proposta di concerti da tavolo, che sono concerti a volume sussurrato, per cui continuate pure a conversare, non ci disturberà, non prefacciamo le nostre cose. Vi presento i sodali che sono Francesco Verducci alle sordine, alla chitarra non elettrica Filippo De Logu e io che sono Michele Fianco suono le spazzole. Antonio mi ha detto se vieni con le spazzole, beh c'è un tavolo di meno da pubire, quindi insomma possiamo fare, e facciamo un repertorio jazz, swing, che va dagli anni 20 agli anni 40, grosso modo, quindi c'è proprio la musica da sottofondo, buona per le case, per le cene, di compleanno, anche nei locali con sale grandi, se fate un compleanno con 15 persone e basta, senza disturbare gli altri, vi portate i musicisti direttamente al tavolo vostro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.